E continuiamo a parlare di trasporti perché c'è una buona notizia per i pendolari bolognesi che si muovono in treno. Con il nuovo servizio metropolitano le corse tra Casalecchio e Pianoro salgono a quattro ogni ora. Silvano Barone. Dal 19 settembre andrà a regime la linea passante Porretta-Pianoro. Saranno così quattro i treni ogni ora nel tratto urbano Casalecchio-Bologna-Pianoro. Il nuovo servizio metropolitano di Bologna, che è stato provato dal sindaco Lepore, dall'assessore regionale ai trasporti Corsini, dall'amministratore delegato di Trenitalia Tullio, permetterà a pendolari, studenti e turisti di viaggiare senza cambiare convoglio. Una rivoluzione del trasporto pubblico della città e dell'area metropolitana, la definita il sindaco Lepore. 5 milioni e 600 mila euro l'anno l'investimento della regione per il potenziamento della frequenza dei treni. 100 i milioni di euro destinati all'intero sistema metropolitano. L'assessore Corsini ha sottolineato come siano cresciuti del 15% rispetto allo stesso mese dello scorso anno i passeggeri sulla Bologna-Porretta. I dati sono molto incoraggianti perché stiamo parlando solo nel mese di luglio-agosto, quindi quando ancora le scuole sono chiuse, di un più 15% di media di passeggeri in più fra il tratto urbano e quello appenninico, che vuol dire 1.400 persone che nei soli mesi di luglio-agosto, al giorno in più, hanno utilizzato il treno. Quindi davvero dei dati molto incoraggianti che ci spingono a fare ancora.